Il giorno che vi è venuto, è per il nostro obiettivo di un turco di residenza legittimamente in Aruba per non avere il diritto e l'accesso di acqua domenica. Noi stiamo aspettando, definitivamente è una domanda, come se vuole contestare, con gente che appena arriva con il diritto e arriva con il nostro paese per farlo. Se noi come paese possiamo cargare il peso e il nostro paese con la solidarietà sociale, senza dubbio ha fatto che il seguro medico generale sia un strumento di inquadro e visione di solidarietà sociale, ma anche la solidarietà sociale ha un limite. Cosa ha il limite? Se noi possiamo pagare il tuo costo che ci sono i nostri desideri. e trovi che ci sono i costi di non balanzare con l'altro, per esempio il tema del patris per l'alante, non si dovrebbe essere. E se noi stai quantificati, stai quantificati con l'opietà. E mi chiede che il problema di quello che è il gaso di acqua domenica, è sentito a quello che è il hospital, il doctor e il remedio. E lo che stai facendo è che non è necessario fare l'entrata, perché non è che abbia il gaso. Non è che abbia il salario del doctor, non è che abbia il gaso nel hospital, non è che abbia il negozio di remedio. Non è possibile che il gaso si stia subito, e allora poi non si è stato cobrato il più. E al final del giorno, c'è non lo che abbia il coraggio e non è quantificati. Non è perimeter, non è possibile che abbia il proietto, che si mi chiedi, non è quello che abbia l'assuto. Nessant'altro, se si'llano e le raggiamenti ad avere un costo, e c'è gente che mi chiedono, per esempio di PPK, per esempio di calciudocci, ci sono gli medici di qualità. E ora qui, con la segura di un medici general, ci sono gli medici ad avere un medici, Grazie per la visione!